ciao benvenuti a cazzeggio catabiotrico in questa nuova veste di cazzeggio catabiotrico ci sono due nuovi ospiti sono due ospiti immaginari beh insomma mica tanto immaginari Giselle e Theia sono due alieni attualmente in sosta sulla colonia di Gonor di Marte per studiare lo sviluppo del punto protocollo sulla terra provengono dalla base di prossimità di Capitain B sono molto cittoni, sucevoli e nella prossima puntata di questo cazzeggio catabiotrico è possibile che dicano qualche cosa oppure intervengano con qualche informazione o con una breve intervista o con altri contributi tutto in regalo ai nostri ascoltatori di cazzeggio catabiotrico ho detto tutto? ah già si 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 è vero mi sono scordato di dire che i nostri due ospiti compaiono in modo virtuale sul monitor alla vostra destra in basso grazie al trasferimento di informazione con un campo antanico a decadimento mecoionico trasmettono quindi dalla base di Marte di Gonor e tenete presente che c'è un po' un timelag ok la presentazione ormai è fatta vediamo quali sono i tuoi argomenti preferiti? wow che tempismo grazie per aver risposto prontamente alla mia domanda questa linea di trasmissione con questo campo antanico a decadimento mecoionico funziona davvero bene fa più veloce non ci direbbe quasi che tu stia trasmettendo da Marte dalla colonia di Gonor e Zegel vuol dire anche non so qualcos'altro ai nostri ascoltatori ecco si perfetto va bene la piccola teia invece vuole dire qualche cosa come? ah si si ho capito quindi va bene devo fare una piccola premessa che la piccola teia vorrebbe parlare e spiegare ai teleascoltatori che cosa si intende per fare contatti pesanti io sono completi pesanti solo completi con me ottimo adesso siamo proprio a posto penso che abbiano capito tutti ah si come diceva prima Zegel con un sms catabiotico che non era lui che aveva risposto alla seconda domanda ma bensì era Xeon che insomma si vede che lì su Marte sono parecchio diciamo fremono dalla curiosità di spiccicare qualche parola con noi terrestri ok qui mi sa che la trasmissione si colge al termine salutiamo quindi i nostri ospiti e tutti i nostri ascoltatori a risentirci alla prossima puntata nella nuova veste di cazzeggio catabiotico audio-chimbo 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 Grazie a tutti.